È inaccettabile, almeno iniziare così senza una contropartita, non è accettabile assolutamente. Infatti a breve daremo una lista di quelle che saranno le nostre richieste. Il conto alla rovescia per i lavori alla Galleria Comelico è già iniziato ed è inarrestabile. In primavera, la data precisa non è ancora stata fissata, inizierà l'intervento dell'ANAS che rischia di isolare totalmente le terre alte se va bene per almeno tre anni. I danni per le attività economiche si preannunciano ingenti. Tra semafori, tra limiti comunque di distanza di 100 metri, non so come possa essere gestita questa cosa. Anche perché, per dire io stessa, ho anche un'attività commerciale. Se lavorando anche comunque con le persone nel Cadore, se non deve partire e venire in Comelico, ci rinuncia. E poi c'è la questione forse più importante, legata al diritto alla salute dei cittadini. Se ci fosse una chiamata al 118, adesso noi abbiamo le ambulanze qua che ci ha lasciato la regione per fortuna, però dovranno smantellare il cantiere, avranno bisogno di 15 minuti. Quindi se ci fosse anche un'emergenza, che l'elicottero comunque non può arrivare, non è accettabile. Poi il primo ospedale comunque sarà a pieve. Una delle richieste, vorremmo che fosse fatta una convenzione con l'ospedale Meno di San Candido, che è più vicino. Quindi non bisognerebbe smantellare nessun cantiere. Com'è un po' Cortina con la Croce Bianca. Adesso trovare una convenzione, un accordo con la regione. Da qualsiasi parte lo si guardi, questo intervento, certo atteso e che interverrà sulla sicurezza del manufatto, sarà un danno enorme. Un cambio di vita per tutti. Noi come Eliane siamo sempre abituati a rimboccarci le maniche, però non ci rendiamo conto veramente cosa accadrà. Cioè senza contropartita, ripeto, questa cosa non può essere accettata. Abbiamo insistito fin dall'inizio di sistemare la strada della Vecchia Valle, che ricordo è stata fatta nel 1800 a mano, voglio dire. Loro non hanno voluto sistemare perché adesso le strade nuove devono avere certe modalità di sicurezza. Però c'era tutto il tempo per farlo. È mancata la volontà. È mancata la volontà di spendere i soldi per noi, perché forse preferiscono spenderli da un'altra parte.